Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi cercheremo di parlare di reactive programming e javascript. Ma prima cerchiamo di capire almeno chi sono io. Sono Giorgio Natili, sono italiano ma vivo a Boston, lavoro in McGraw Hill Education. Vediamo chi indovina che cosa fa McGraw Hill Education. Canne da pesca, esatto. Però con una componente di adaptive learning e diversi software che aiutano 3 milioni di studenti negli Stati Uniti a conseguire la loro laurea. Quindi non facciamo solo libri. Canne da pesca e software. Canne da pesca è il più interessante profilo che abbiamo al momento. Sono parte di varie community dal 2004. In Italia, tanti anni fa, c'era actionscript.it. Ero io. Poi Flash è morto e siamo andati avanti con javascript. Sono piuttosto attento all'open source. Cerco di non adottare mai un software che sia close source. Non mi voglio più mettere in prigione come quando ho usato Flash. E in più sono il fondatore del Mobile T. Cos'è il Mobile T? Il Mobile T è un evento che sta tenendo abbastanza piede a Boston, a Roma e a Guadalajara, in Messico. Quindi è una community, sta operando in due continenti. La differenza qual è tra una community normale e il Mobile T? Che il Mobile T mischia musica e talk tecnici. Quindi c'è una differenza sostanziale. Viene spinta molto la componente sociale di ogni evento. Supporters sono appunto le canne da pesca di McGraw Hill Education e Twitter. Twitter è sponsor ufficiale del Mobile T dal 2015, quindi da un anno circa. Vediamo alle cose interessanti. Oggi cercheremo di guardare un attimino cosa è stato javascript e cosa sarà nel futuro. Ok? Ha cambiato durante negli ultimi tre anni. Daremo un'occhiata al concetto di reactive programming, ma molto velocemente, per poi cercare di affrontare functional programming, asynchronous javascript applications, Redux, Angular 2 e reactive programming. Tutto in 40 minuti. Javascript. Quanti di voi usano javascript? La prima volta. Quanti java? Ah, mannaggia. Sarebbe stato bello niente java, tutti javascript. Sarebbe stato il top. Perché la gente lo odia? Prima di tutto perché non è facile organizzare il codice. Non è facile strutturare una vera applicazione enterprise con javascript. E' assolutamente strano il modo in cui vengono ereditate le proprietà e i metodi di un oggetto. Il prototype. Che per noi è prototipo, no? Per noi italiani che applichiamo la traduzione letterale. Ma di fatto non è proprio così. La keyword this e le callback, queste sono altre due cose che la gente odia. This cambia valore a seconda del contesto di esecuzione. Beh, potentissimo. Potente, sì? Quante volte mi ha dato problemi? E le callback? Chi odia le callback? Bene. Ma usiamo tutti javascript perché? Perché ci piace. Non perché sia l'unica scelta possibile, giusto? Beh, è facile iniziare con javascript. Non abbiamo problemi a compilare, non abbiamo bisogno di emulatori, usiamo il browser. Quindi chiunque può iniziare velocemente a lavorare con javascript. E' pieno di esempi. Se voi cercate su web, trovate un sacco di esempi. Legacy, eh? Tutto spaghetti code, jQuery, un sacco di jQuery. Chi usa jQuery? A trabocchietto. jQuery diciamo che non è più fondamentale. Però per fare esempi è stupenda. E poi javascript va bene per tutti coloro i quali non hanno una laurea in ingegneria informatica, quindi sono sempre là a aggerare, a cercare di imparare nuove cose. Quanti di voi non sono laureati? JavaScript è perfetto. Potete scegliere, lo potete amare o lo potete odiare. Ad ogni modo siete costretti ad utilizzarlo, perché non c'è una grossissima scelta sul web. Infatti JavaScript è un pochino il new assembly. Chi conosce assembly? Chi ama assembly? Ami assembly? Vabbè. E' vero, te potresti, è vero. Tutti lo amano ma nessuno lo vuole scrivere. Tu scrivi assembly? Un pochetto. I capelli bianchi sono venuti prima o dopo? JavaScript è il nuovo assembly perché molte funzionalità interne del linguaggio stesso sono nascoste. Un pochino dal browser, tantissimo da tutti i framework. Quanti usano Angular? Ember? Ah, ok. Ember solo io? Wow. 2, ok. E tutti questi framework non fanno nient'altro che nascondere funzionalità del linguaggio, arricchendolo, perché alla fine quando voi traspilate qualsiasi file scritto in Angular 2 o anche con Angular 1.5, la maggior parte delle volte viene tradotto in ECMA 5, viene completamente cambiato il linguaggio. E poi è il nuovo assembly perché solo recentemente abbiamo avuto dei veri e propri cambiamenti nella sintassi. javascript. Chi scriveva javascript nel 96? Siete i miei eroi, dopo per favore venite qua. è dal 96 che javascript è in giro, quindi parecchi annucci. Il primo standard, ECMAScript 3, hanno saltato l'uno e il due quasi, o meglio hanno fatto l'uno e hanno saltato il due, è uscito nel 99. Poi abbiamo avuto un buco totale di 10 anni fino ad avere ECMAScript 5 nel 2009, l'adoption è iniziata realmente nel 2011 e poi abbiamo avuto ECMAS 6 e abbiamo anche ECMAS 7, javascript next, tutto quello che volete. Ovvero cosa è cambiata? È cambiata la modalità di standardizzazione del linguaggio, il linguaggio si sta evolvendo alla velocità pazzesca. Infatti ci sono proposal e plugins, plugins che dentro bubble.js ad esempio prendono il vostro metalinguaggio, la nuova feature che volete implementare in javascript e la traducono in ECMAS 5 o ECMAS 6 a seconda del supporto browser che dovete avere. Quindi è in un'evoluzione fortissima e velocissima. È cambiato il modo di pensare a javascript. Quanti di voi adesso pensano a un file javascript come a un modulo? Fino a un po' di anni fa un file javascript era solo un agglomerato di funzioni. Poi con jQuery sono iniziate le self-executing functions e poi nient'altro fino all'arrivo dei moduli. Abbiamo nuove keyword, nuove feature, abbiamo le promise, abbiamo la possibilità di utilizzare le keyword async e await per gestire al meglio la sincronia del linguaggio, che poi è la feature più importante dello stesso. Tutti i vari oggetti chiave, quali mat, number, string, array, si stanno evolvendo. Anche gli object, il semplicissimo object-object, quel mostro che è la prima volta che uno lavora con java scritto e si vede in console. Object-object, non ha nessun senso. Ma sta diventando molto potente. Per esempio, abbiamo finalmente a disposizione l'erro function. Questo simboletto non fa nient'altro che permetterci di scrivere una function in una maniera molto stringata, ma soprattutto di mantenere il contesto di esecuzione della funzione legato all'oggetto sulla quale viene eseguita. Quindi il this, eventualmente, in questo caso sarebbe questa array. L'altra cosa interessante è che abbiamo tutta una serie di metodi nuovi per l'array. Abbiamo il fill, il find, il find index. Chi ha usato lo dash o la libreria del genere? Non servono quasi più, a meno che non dobbiate supportare Internet Explorer 8 o inferiori. Guardate che Amazon supporta ancora Internet Explorer 6. Sapete perché? Perché in Cina è il browser più diffuso. E in Cina è un mercato di quasi un miliardo di persone. Eh? Eh lo so, ma Amazon è più attaccato al denaro di Microsoft. Abbiamo entries, keys, values. Abbiamo quindi la possibilità di accedere e modificare gli array in una maniera molto differente. Abbiamo le classi. Finalmente, se scriviamo una classe in JavaScript, abbiamo a disposizione i costrutti che ci si possono aspettare da un paradigma orientato agli oggetti. Dietro le scene è sempre un prototype. È solo syntax sugar. Però il di facciata è molto più interessante. Abbiamo i proxy object. Possiamo quindi creare behavior custom, comportamenti custom, sulla base di mancanza di proficolato di un oggetto. Possiamo creare dei log molto complessi. E tutto questo sta veramente impattando in maniera notevole tutti gli aspetti dello sviluppo JavaScript. Abbiamo features, emerging standards, e questi standard vengono testati nel browser attraverso la traspirazione e i polyfill che, per esempio, Babel.js mette a disposizione. O che voi potete scrivere per Babel.js. Abbiamo i framework che li stanno adottando tutte le novità di JavaScript. Angular 2 è super cutting edge. Utilizza TypeScript, utilizza RxJS, e ha vari problemi di stabilità, ma è alla beta 11. Tre giorni, quattro giorni fa era alla beta 9. Quindi sta andando velocissimo. Ora possiamo fare qualsiasi cosa. Possiamo veramente creare qualsiasi tipo di applicativo con JavaScript e renderlo anche mantenibile. Quanti di voi sanno cos'è il reactive programming? Ok. Sono sempre gli sviluppatori Java o c'è differenza? In a nutshell, ovvero in maniera molto stringata, è un paradigma di programmazione che presta molta, moltissima attenzione ai vostri flussi di dati. Ovvero, voi potete creare variabili, potete concatenare variabili che vengono modificate e il sistema reagisce ogni qualvolta vengono rilevati dei cambiamenti nei valori di queste variabili. È un po' simile all'observer pattern, che è uno dei più standard pattern che si possono trovare nella bibliografia dell'Object Oriented Programming. La cosa interessante è che Reactive Programming può essere utilizzato con il paradigma imperativo, Object Oriented e Functional. Perché è così importante? Innanzitutto possiamo iniziare a sfruttare le capacità asincrone di JavaScript e ascoltare eventi che vengono dai dati e non solo dal mouse o da un over o da un input che cambia. Tutti questi stream di dati possono essere gestiti e concatenati in maniera asincrona. Quindi, diciamo che le cosiddette interfacce blocking, le web app che piantavano il browser che impedivano qualsiasi repaint o redraw, è molto difficile ottenerle adesso. Tutto quello che ci viene restituito da un data stream può essere filtrato, modificato e restituito in altre variabili. Un sistema Reactive è Responsive, Elastic, Resilient e Message Driven. Che vuol dire questo? Per quanto riguarda il Responsive, il sistema resta rispondente, quindi riesce a darvi informazioni su quello che sta succedendo, a dispacciare eventi, a notificarvi di qualcosa che sta cambiando nell'arco del tempo. Elastico, ovvero il sistema anche se è sottoposto a grossi stress riesce a rimanere responsive e a comunque restituire informazioni quali lo stato e anche lo stato di elaborazione di un data stream. Message Driven, questa è la parte più importante. Invece che avere dipendenze che vengono iniettate in differenti file e utilizzare metodi e chiamare proprietà di un altro oggetto o classe o modulo javascript, comunichiamo attraverso messaggi. Viene quindi mandata un'azione, dispacciata un'azione, che viene intercettata e permette di creare architetture fortemente decoupled, ovvero con dipendenze bassissime tra un modulo e l'altro. Resilient è quasi un sinonimo di Elastic. Sostanzialmente il sistema resta responsive e in grado quindi di fornire informazioni sull'esecuzione dello stato e sul parsing dei data stream anche in un caso di failure del sistema. Quindi l'error handling è propriamente gestito. Quanti di voi usano functional programming? Quanti di voi pensano che sia interessante? Dovete essere tutti, siete in una sessione su functional programming. Era trabocchetto questa. Quanti di voi pensano che sia un nuovo paradigma? Ok, bene, ci siamo. La definizione. La definizione, come tutte le definizioni, varia a seconda se la cercare su Wikipedia, se andare su tutorial, poi ci sono i libri, ci sono le risorse, gli amici, i colleghi. Comunque le parole più comuni nella definizione di functional programming sono functions as first class object and eliminating side effects. In pratica. In pratica, tutte le funzioni devono accettare almeno un argomento. Perché? Perché le funzioni prendono un argomento, lo elaborano e restituiscono un valore senza modificare il valore passato come argomento. E infatti ogni singola funzione dovrebbe restituire sempre un valore o un'altra funzione da eseguire. Non ci sono loop. O meglio, i loop ci sono, li potete usare, ma sostanzialmente vengono sconsigliati. Se vogliamo parzare un array, ad esempio, o meglio, controllare il, calcolare il totale dei valori storati in un array, possiamo utilizzare un approccio leggermente differente. piuttosto che un for loop facciamo un return dell'esecuzione di una function. Quindi è una ricorsione. Eliminiamo il for loop e non usciamo dalla ricorsione fino a quando la nostra lista, il nostro array, non è vuoto. Utilizziamo slice invece che shift nell'array proprio perché cerchiamo di non andare a modificare il parametro di un'entrata. Quindi, in questo modo, che cosa otteniamo? Un'immutabilità dello stato o quantomeno del valore iniziale e un risultato coerente con quelle che sono le nostre esigenze. La domanda è? Allora, dipende. Dipende. La ricorsione potrebbe essere molto più lenta di un ciclo for loop. Dipende da quanto è lunga e grossa la funzione. Se torniamo indietro un secondo a questa funzione. Adesso, se togli i commenti. È piccola, l'operazione è velocissima. Io non credo che ci siano performance così discordanti tra questa e un for loop per calcolare la somma. Forse qualche millisecondo. Dipende dalla complessità delle funzioni. E infatti, functional programming, uno dei paradigmi è quello di avere funzioni corte, piccole, riutilizzabili che restituiscono un valore. Questo perché eventualmente puoi anche trovare i colli di bottiglia alle performance. Ma il fatto che io ti dica che non sono consigliati i for loop non vuol dire che se usi for loop sei una cattiva persona. Vuol dire che questa è la teoria sulla functional programming. Poi, ci sono tantissime belle teorie. E poi ci sta la pratica dove può essere che debba essere violata talvolta la teoria. non partirei con l'approccio vabbè, se non funziona facciamo un for loop. No, cerchiamo di capire dov'è veramente il collo di bottiglia delle performance. E se è proprio quella la differenza, beh, cerchiamo di andare un attimino più a fondo e eventualmente metteremo la patch e avremo il nostro tech depth che aumenta. Allora, le cose che mi piacciono del functional programming sono sia le first class functions che le pure functions. Queste mi piacciono tantissimo. Ovvero, una pure function è una funzione che non dipende da valori che sono dichiarati nello scope in cui la funzione stessa è dichiarata. Quindi non vado a far mutare l'esecuzione della funzione sulla base di valori che sono al di fuori dello scope della funzione stessa. First class functions. Perché mi piace? Perché è da sempre quello che è JavaScript. Una funzione in JavaScript è un oggetto. Noi possiamo aggiungere proprietà, memorizzare valori su una funzione. Quindi è interessantissimo per me vedere che quando ho scoperto functional programming alla fine JavaScript è predisposto per essere utilizzato con questo paradigma. Le variabili immutabili sono è contraddittorio. Come fa una variabile essere immutabile? Dovrebbe essere una costante. No? Eppure è importante in functional programming tenere presente che la variabile deve sempre preservare il valore originale anche dopo una mutazione. Ci sono tre esempi adesso. Cerchiamo di vedere un pochino first class functions. Quanti di voi hanno scritto una funzione del genere per gestire un form? Tutti. Bene, già conoscete parte del functional programming. Avete passato una funzione come argomento a un'altra funzione. Non è nient'altro che questo essere una first class function. Sì, ho usato modifica il suo comportamento a seconda dei valori esterni. Quindi sostanzialmente non modifica quello che è intorno a lei. La differenza fra queste due funzioni è che nel primo caso viene passata all'esecuzione della funzione l'intera variabile values e vengono modificati i valori di A che è una proprietà dell'oggetto values. Nel secondo caso A viene passato come argomento quindi non va più a modificare la proprietà vengono eseguiti i calcoli e viene restituito. L'esecuzione di questa funzione non mi modifica il valore di values e quindi le successive esecuzioni non sono dipendenti da values stesso. Ecco un esempio di un array immutabile. Creiamo un array 1,2,3,4,5 e poi ci memorizziamo un valore 2 scusate ci memorizziamo nella variabile v2 il risultato dell'operazione push su questo array. Questo metodo push è un nostro metodo speciale non è un metodo della classe array in javascript. Abbiamo il primo array che resta invariato e il secondo che contiene il nuovo valore. Questo è il concetto di immutabilità delle variabili ed è importante quando andiamo a parlare dello stato di un'applicazione che dovrebbe essere immutabile. Infatti da se vogliamo guardare functional programming con una prospettiva più orientata alle funzioni abbiamo i dati che dovrebbero essere immutabili e l'app stessa dovrebbe implementare tutti i componenti stateless. Quindi il paradigma di programmazione di javascript sta cambiando e andremo a trovarci sempre più spesso di fronte a applicazioni con una miriade di componenti piccoli assolutamente decapla del resto dell'architettura che eseguono piccole cose. La cosa importante è che functional programming non è una buzzword è una scienza e è pure parecchio antica. Per esempio questo libro che consiglio è del 1989 ed è uno dei più giovani. Functional programming le prime applicazioni di functional programming sono state fatte con l'ISP l'ISP è un linguaggio vecchissimo quindi quando vi parlano di functional programming tenete presente che non è una buzzword è una scienza perché infatti è partito da calcoli matematici e poi si è evoluto attraverso javascript scala swift stesso e altri linguaggi che stanno abbracciando la buzzword cos'è il functional reactive programming? sembra un parolone FRP non è nient'altro che utilizzare il paradigma reactive programming mischiato ai building blocks ovvero ai concetti chiave del functional programming quali map reduce filter merge è implementato in javascript da svariate librerie backonjs backonjs and rxjs chi conosce tutte queste due librerie? ok guardate backonjs come funziona bene quanto è interessante e scusatemi sì ho riutilizzato jquery ma è comodo per gli esempi non faccio nient'altro che associare l'evento click al mio stream di dati e non fa quindi per due bottoni differenti sulla mia pagina vado a a mappare l'incremento il decremento all'interno del counter e sempre all'interno del counter con cateno cioè anzi come valore della variabile counter concateno la somma dei due valori parte finale assegno un observable alla proprietà text di un altro oggetto che ho sulla pagina il risultato è che con queste pochissime righe di codici backonjs è abbastanza estesa ma non è pesantissima per il browser posso avere il classico più uno meno uno rating qualsiasi componente vogliate con poche righe di codici che hanno anche un senso il senso principale è che questo evento click che è un interaction dell'utente viene associato a un data stream il tutto avviene in maniera asincrona cosa ok questo è forse uno dei più belli esempi ed è neanche troppo complesso di cosa può diventare una callback qua stiamo interagendo con un db ci stiamo connettendo a un nuovo server quindi a occhio e croce sarà mongo stiamo lavorando su una collection e stiamo inserendo un oggetto interessantissimo a a a a a a bene ma questo è un caso ottimale nel quale non facciamo veramente niente con il nostro codice le callback diventano assolutamente ingestibili dopo pochissime righe per fortuna abbiamo le promises ovvero abbiamo un concetto dove possiamo creare una promise sapere e gestire all'interno della promise il risultato o la negazione del risultato quindi l'errore e avere un codice molto più compatto se dichiariamo la nostra promise possiamo poi utilizzare la keyword then e gestire all'interno della keyword utilizzare il metodo then e passare due funzioni come argomenti passando le due funzioni come argomenti evitiamo tutto quel meccanismo di callback e abbiamo un codice sicuramente più pulito c'è ancora di più chi conosce a sync and await a chi le ha provate sono eccezionali almeno per chi è abituato chi ha passato anni a gestire bug all'interno delle callback sono veramente una soluzione interessante cosa ci permettono di fare ci permettono di dichiarare una funzione come asincrona ovvero dipendente dall'esecuzione di un'altra funzione asincrona nella fatti specie la funzione main sta dipendendo da get quote get quote sta ritornando una promise e quindi la promise è una chiamata asincrona la funzione può essere interrotta o quantomeno sospesa con la keyword await e questo significa che arriveremo nel console log che ci restituisce la quote di Ron Sanson solo quando la promise viene viene risolta sia che venga risolta con un errore o che venga risolta con un messaggio di success Redux chi conosce Flux ok chi conosce Redux Redux e Flux sono simili il concetto è lo stesso la differenza principale è che Redux è assolutamente al di fuori dell'ambiente Reactive quindi può essere utilizzato con qualsiasi altra libreria può essere utilizzato con Reactive stesso e un'altra differenza rispetto a Flux è la gestione dello stato che è appunto immutabile Redux quindi è un container per un'applicazione JavaScript ci permette di eventualmente mutare lo stato direttamente di gestire actions e eventi e avere una serie di reducer che lavorando insieme ci modificano i valori della nostra applicazione per far sì che lo stato di tutti i componenti sia coerente le azioni in Redux sono degli oggetti oggetti che hanno una proprietà type che è mandatoria dovete assolutamente utilizzarla è una stringa è il nome del vostro evento che viene dispacciato all'interno dell'applicazione potete passare quello che volete poi come parametri decidete voi i nomi decidete voi se sono string se sono function se sono promises qualsiasi cosa una volta che avete un'azione l'azione ops scusate l'azione viene intercettata da un reducer sostanzialmente qual è il paradigma l'azione descrive cosa sta succedendo nella mia applicazione il reducer intercetta l'applicazione scusate intercetta l'azione e modifica lo stato dell'app in pratica un reducer non è nient'altro che un grosso listener che riceve azioni come add to do toggle to do o qualsiasi altra azione voi vogliate e ritorna allo stato dell'applicazione infatti lo stato viene passato come costante viene passato come valore di default e ogni qual volta che viene intercettata una action viene restituito un nuovo stato basato su le modifiche che l'azione comporta sul vostro stato ad esempio in un'applicazione che fa un elenco di to do quando aggiungete un nuovo to do voi avrete quest'array che viene popolato quando lo marcate completato verrà modificato il valore del to do all'interno dell'array e via dicendo uno store in redux non è nient'altro che il collante che unisce actions e reducers in angular o in qualsiasi framework voi potete importare create store da redux e potete importare il vostro specifico reducer e una volta che create lo store siete in grado di mandare qualsiasi tipo di evento in giro per la vostra applicazione la cosa importante da notare è che l'evento non viene semplicemente non viene dichiarato in maniera lineare all'interno come argomento del del dispatch ma fa riferimento a una function che voi definite di solito nelle actions in modo tale da mantenere una sorta di coerenza all'interno degli eventi il flow il flusso di un'applicazione basata su redux è che voi dispacciate un evento mandato un evento all'interno della vostra applicazione un action viene questo viene intercettato dal reducer il reducer collabora con il root reducer quindi potete avere differenti layer nell'applicazione che gestiscono differenti porzioni del vostro stato e alla fine lo store salva lo stato completo del vostro applicativo e vi ritorna dei dati come suona vediamo se con un po' di codice si legge abbastanza? meglio? questo è un planker semplicissimo che potete trovare c'è il link nelle slide che vi verranno consegnate comunque lo trovate su planker non è mio ma è fatto abbastanza bene allora ho aggiunto un to do lo posso marcare come completo lo posso marcare come ancora da fare posso filtrare per active completed all ok? tutto questo come viene fatto? abbiamo detto che abbiamo un contenitore per tutte le azioni per esempio il nostro file to do actions contiene l'add to do il toggle to do il remove to do e tutto questo viene esportato in una classe to do actions che io posso poi importare negli altri moduli in modo tale da mandare costantemente cosa? il tipo di oggetto il tipo di evento e i dati associati al tipo di evento le costanti add to do toggle to do remove to do e bla 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 sono tutte stringhe ed è attraverso queste che noi riusciamo nel root reducer a intercettare i vari eventi nel caso dell'add to do andiamo a aggiungere un to do sul nostro sul nostro array e nella fattispecie gli passiamo un id il testo e lo stato che può essere completo o non completo toggle to do utilizza un filtro direttamente sul applica direttamente un filtro sull'oggetto che viene restituito remove to do rimuove l'oggetto solo se è vera la condizione specifica quindi fa un filtro e poi lo rimuove e abbiamo sempre all'interno dello stesso modulo questa funzione toggle to do alla quale vengono passati il to do l'action e che utilizza la proprietà e il metodo map degli array per filtrare appunto i to do visibili o invisibili l'app stessa parte in maniera molto semplice è basata su angular ha tre directives e ha un template in linea il filter dei link è un pochino più complesso ma non è estremamente complesso utilizza la nuova sintassi degli eventi di angular 2 e applica lo stesso algoritmo lo stesso lo stesso sistema abbiamo il subscribe che fa sì che questo componente sia in ascolto del degli eventi propagati dallo store e il risultato è quello che vedete sulla destra ovvero la possibilità di aggiungere tutti i to do che volete marcarli fatti vedere quelli che sono attivi e via dicendo angular 2 quanti lo stanno usando? quanti lo stanno odiando? allora ha un tech stack che è assolutamente in evoluzione la fattispecie è in evoluzione stessa angular e le librerie da cui dipende rx.js è parecchio veloce come evoluzione e jspm stesso ha un sacco di problemi al momento ancora un sacco di bug non è ancora abbastanza stabile typescript typescript è un superset di javascript è stato sviluppato da microsoft implementa classi interfacce ineritance stricte da typing e proprietà private bene a parte strano che adesso microsoft e google sono diventate così amiche ma al di là di questo cosa c'entra la xjs e la xjs innanzitutto è una dipendenza di angular 2 stesso adesso è un porting in javascript della una libreria java famosissima che permette di combinare observa l'operators e avere stream di dati attraverso anche l'utilizzo di pipe di oggetti che stream hanno dati il più semplice esempio in rxjs è avere una variabile counter sullo scope avere un observable e con un intervallo di mille millisecondi fare un incrementale in modo tale da cambiare il valore della variabile stessa sullo scope come si fa a integrare redux in angular si installa un modulo e si utilizza la sintassi che avete visto fino a un attimo fa come redux store all'interno della vostra applicazione qual è il vantaggio il vantaggio è che da una parte avete il la flessibilità di rxjs nel ricevere nel rilevare il cambiamento del vostro model dall'altra avete la flessibilità di redux di non avere grossissime dipendenze tra un componente e l'altro perché potete utilizzare queste action questi eventi e avere un'architettura completamente decoupled questo slide è sbagliata ma un secondo abbiamo parlato di reactive programming functional programming e object oriented programming teoricamente sulla carta suonano come quasi tre cose differenti però non è proprio così si possono mischiare perché perché se noi utilizziamo i concetti chiave di della functional programming ovvero manteniamo le nostre funzioni pure 10 manteniamo le nostre funzioni pure utilizziamo le nostre funzioni come argomenti scriviamo piccole e riutilizzabili funzioni noi non stiamo nient'altro che applicando alcune buone regole di codice in più quando abbiamo funzioni che restituiscono sempre un valore possiamo testare queste funzioni quanti di voi scrivono test prima di scrivere un'applicazione ok ero sicuro sulla sua mano l'ho invecchiato con assembly e faccio i test beh dovreste perché finché l'applicazione resta piccola i test danno valore ma non danno significativo valore come l'applicazione cresce il valore è significativo perché vi permette di avere una chiara visione dei comportamenti della vostra applicazione soprattutto vi permette di prevenire una buona parte di regression anche se non vi salva da tutti i bug e in più vi aiuta ad avere una conversazione con chi vi sta commissionando il lavoro sia che sia il vostro capo sia che sia un cliente esterno possiamo avere un sacco di vantaggi dall'utilizzo di rx.js perché perché possiamo avere observable e possiamo riuscire a intercettare in maniera semplice efficace tutti i datastream che emettono un evento in quanto il valore in esso contenuto viene cambiato se la nostra applicazione inizia a essere pensata con redux il vantaggio maggiore è che noi piuttosto che iniziare ad avere i problemi tipici anche dell'applicazione Angular 1.x ovvero le dependency injection riusciamo perché immiettiamo le dipendenze perché io ho bisogno nel componente B di chiamare una funzione sul componente A ma se io ho componente B mando un'azione l'azione viene intercettata dal reducer e il reducer fa qualcosa allo stato io ho meno bisogno di avere questo tipo di dipendenza in più io posso avere reducer multipli un root reducer e reducer a livello di singolo componente quindi il mio componente può intercettare l'azione che mi viene mandata da un altro componente e senza conoscere nulla l'uno dell'altro interagiscono solo da un punto di vista dati modificano lo stato del componente e lo stato dell'applicazione un altro esempio interessante è questo allora questa è una simulazione di chat tra l'altro è associata a questo libro che vi consiglio se siete interessati ad Angular a illegibile vero vediamo se riusciamo a fare di meglio allora è sempre illegibile ok allora la struttura dell'app è abbastanza semplice include common vendor e app.js app.js ovviamente è traspilato e parte da un file typescript il file typescript non fa molto altro se non includere le dipendenze quindi abbiamo la navigation bar della chat abbiamo la window abbiamo i threads e tutti questi componenti sono assolutamente assolutamente decoupled dal resto dell'applicazione e iniziano a implementare interfacce come on init e a utilizzare un meccanismo di subscribe che è tipico di rxjs quindi rxjs stesso è un first citizen in qualsiasi Angular app ed è un metodo assolutamente efficace per gestire gli stati dell'applicazione e reagire ai cambi di stato i servizi stessi non sono niente di che o meglio non la voglio semplificare troppo ma moltissima complessità è nascosta dall'utilizzo di rxjs in questo esempio come nel caso degli update che prendono un soggetto che accetta qualsiasi data type e come la linea 31 dove abbiamo uno scan continuo sulla rete messaggi e un'operazione che ci viene restituita che viene eseguita ogni qual volta un messaggio viene aggiunto alla coda riusciamo quindi ad avere con Redux e rxjs dipendenze minime tra un componente e l'altro e avere uno stato predictable all'interno della nostra applicazione domande se è nessuna vuol dire che non vi ho spiegato niente eh? no nessuna domanda? nelle prime slides abbiamo visto le lambda già quindi io oggi posso ad oggi posso già usare le lambda non lo faccio però ora che lo so lo posso fare lo potresti assolutamente fare dipende da quale browser se stai parlando dei browser evergreen quindi chrome firefox edge si senza problemi nel caso tu devi andare su browser più vecchi puoi utilizzare Depolyfield o Babel.js se vuoi transpilare il tuo codice poi qui ho visto su Angular io sono ignorante però e lì ho visto i file TS non devono essere compilati quindi i file vengono compilati tu scrivi TS e nel momento in cui salvi la configurazione di Jspm o Webpack a seconda del package del tool di packaging che lo utilizzi prendi i file invoca TypeScript e li traspila e li converte in JavaScript grazie prego altre domande? pronto scusa una domanda chi è? Java si il Redius può essere in qualche modo assimilato a un concetto di MWC o non c'entra assolutamente nulla? ma allora è difficile darti una risposta perché perché MWC alla fine ha delle referenze statiche ed è una triade che comunica in maniera tra virgolette statica ognuno conosce i fatti dell'altro io lo associerei più a MWP eventualmente dove l'interfaccia che viene implementata dalla view è passiva allora potremmo avere il presenter che reagisce all'evento e comunica con l'interfaccia ce lo puoi infilare non è sbagliatissimo però perché non te lo assimilo all'MWC e più all'MWP perché l'MWC prevede veramente che i tre componenti conoscono ognuno i fatti dell'altro mentre l'MWP discosta la view dal model la view viene conosciuta solo dal presente lo vedrai più simile a questo perché comporta un decoupling elevato dell'applicazione utilizzando molta ricorsione non si rischia di andare in overflow sulla call stack in stack overflow sì sì certo la ricorsione può portare anche a quello ma anche un for loop fatto male porta lo stesso risultato quindi dipende dallo stile che vuoi utilizzare altre domande sì tutti questi approcci nuovi quindi a livello di performance impattano quanto visto che comunque stai utilizzando tecnologie e penso anche in produzione sì allora c'è un trade off da pagare ovvero per quanto sia tutto bello efficace tu riesca ad avere un codice più pulito un maggior controllo perché con lo street data typing riesci a prevenire un sacco di errori quando l'applicazione parte il tempo di loading di bootstrap dell'applicazione è maggiore senza ombra di dubbio allo stato attuale quindi hai un trade off quanto meno sullo start up se ho capito bene becon.js e rx.js servono entrambe per fare reactive programming sì al di là che rx.js è integrata in angular 2 quindi è questo vantaggio se no pro contro dell'una e dell'altra guarda io l'unico pro contro che vedo può essere lo stile delle API quindi guardi le API e vedi quelle che ti piace di più e rx.js alla fine essendo una dipendenza di angular stesso ti permette di scrivere qualcosa di un po' più portabile ovvero quello che scrivi basato su rx.js se poi lo vuoi integrare in angular in un futuro se al momento non lo stai utilizzando è più facile che becon.js becon può essere utilizzato in angular ma è un'altra dipendenza quindi è un po' una scelta che dipende dal contesto del tuo progetto posso farti una domanda o forse ho sentito io ho preso una frase sbagliata sbaglio o hai parlato di dependency injection in contrasto tra virgolette verso il functional nel senso che o meglio mi chiedisci questa cosa non voglio travisare eventualmente travisato io una frase solo un chiarimento sulle due cose sicuramente mi sono espresso male io il punto non è che dependency injection non va bene quando fai functional programming io ho fatto facevo riferimento ad angular quando lavori in angular anche in uno punto x alla fine per quanto il dependency injection sia efficace se dimentichi una dipendenza da qualche parte eccetera perdi un sacco di tempo a debuggare l'applicazione trovi un sacco di problemi eccetera allora rispetto ad avere array di dipendenze che ho visto in componenti in produzione lunghi due righe preferisco ridurre il numero delle dipendenze e gestire la comunicazione più attraverso eventi piuttosto che avendo la dependency injection e invocando il metodo o cambiando il valore della proprietà beh devo comunque certo assolutamente sì 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 assolutamente sì 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 certo assolutamente sono tutte dependency però piuttosto che avere una dipendenza fortissima da un intero modulo da un intero componente ho la dipendenza dall'azione quindi riduco un po' meno la mia catena di dipendenze e non sto dicendo che dependency injection è sbagliato assolutamente esatto no 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 è giusto è giusto grazie comunque bella domanda ciao se si lavora in team comunque questo approccio è di per sé un po' più complicato bisogna cioè comunque partire con un team che è fortemente skillato rispetto a questi approcci perché poi comunque coinvolgere altre persone non potrebbe essere complicato per no allora sto facendo l'esperimento su un progetto che andrà in produzione tra un paio di mesi e il team ha diversi skill io mi sono concentrato sul package sull'architettura dell'applicazione e gli sto mettendo a disposizione uno scaffolding di tutti i componenti dove loro stanno aggiungendo i template stanno aggiungendo le azioni e stanno poi iniziando a scrivere parte dei controller quasi come se fosse una vecchia versione di Angular quindi dipende da quanto lavoro fai up front per metterli nella condizione di scrivere codice utilizzando Redux utilizzando Angular 2 senza pretendere che loro imparino tutto da subito altre domande perché hanno inventato let perché hanno inventato let per una questione di scope per avere la possibilità di dichiarare una variabile nello scope piuttosto che al di fuori dello scope è semplicemente una questione di scope se tu c'hai function if e poi è un let dentro quella variabile esiste solo nell'if non esiste nella function è scoping grazie a tutti